E' il limite per x che tende a più infinito che è la radice quadrata di 3x quadro più x questo limite è facile da fare, quanto fa? più infinito, questo fa più infinito con la radice quadrata di più infinito a più infinito fa più infinito adesso proviamo a fare questo limite qua il limite per x che tende a più infinito è la radice quadrata di 3x quadro più x più 1 fratto x no, come lo posso fare questo qui? posso fare limite per x che tende a più infinito qui tiro fuori una x dalla radice quadrata poi viene 3x quadro più x più 1 fratto x quadro fratto x la x la semplifico quanto fa questo limite? radica 3 questo qua lo posso scrivere come limite per x tende a più infinito è la radice di 3 più 1 su x più 1 su x quadro e fa radica 3 ecco Allora, cosa mi dice? Che questa funzione qui fx uguale la radice di 3x uguale più x più 1 che è per x che tende a più infinito è radical 3x più o piccolo di x fate attenzione che questo piccolo di x significa sempre una cosa più piccolo di x che diviso per x tende a 0 però fate attenzione perché stavolta x non è un infinitesimo ma è un infinito x andando a più infinito è infinito quindi questa non solo è infinito ma abbiamo specificato un po' meglio come fa Ora, però, se vogliamo specificare meglio la parte che avanza dobbiamo proseguire Allora, cosa dobbiamo fare? Proviamo a fare questo limite qua il limite per x che tende a più infinito di radical 3x quadro più x più 1 meno radical 3x quadro più x più radical 3x quadro più x più 1 più radical 3x quadro più x più 1 più radical 3x a meno b per a più b fratto a più b Sopra quanto mi viene? Questo è il limite per x che tende a più infinito di che cosa? a più b per a meno b fa a quadro meno x quadro meno b quadro a quadro questo qua meno questo qua se ne va Sotto invece mi rimane radical 3x quadro più x più 1 più radical 3x Quando mi viene il limite per x che tende a più infinito sopra c'è x che lo mette in evidenza e diventa 1 più 1 su x Vedete la quantità più grande si può mettere sempre in evidenza cosa rimane? una cosa che tende a 1 più altre cose che tende a 0 per definizione di quantità più grande cioè di infinitesimo di ordine inferiore o di infinito di ordine inferiore il resto ho diviso questo Sotto posso mettere in evidenza la x Qua mi rimane come prima radice di 3 più 1 su x più 1 su x quadro più radical 3 Quando mi viene questo limite? Quando mi viene? 1 fratto 2 radical 3 1 fratto 2 radical 3 oppure radical 3 sesto ok in verità mi interesserebbe sapere anche se questo limite è da destra o da sinistra perché? andiamo a vedere prima di fare questo andiamo a vedere qua posso scrivere un po' meglio la mia f di x quando x è molto grande a chi era uguale? c'era un primo termine che era radical 3x poi ce lo tolgo il secondo termine è radical 3 sesti quindi questo è radical 3x più radical 3 sesti più o piccolo di 1 perché io piccolo di 1 questa è una costante una cosa che è diviso una costante è una cosa che è diviso per 1 quindi vedete questo è un infinito questo è un termine finito il prossimo sarà o piccolo di 1 che significa un infinito quindi questo è un'altra cosa che è diviso per 2x poi queste cose le ripeteremo in maniera più precisa però intuitivamente si capisce ok? però in realtà questo cosa mi dice per esempio se io dovessi studiare il grafico di questa funzione se io prendo radical 3 sesti più radical 3x che è una retta mettiamo che questa funzione è qua radical 3x più radical 3 sesti è una retta no bisogna solo una semiretta di unites perché x è andato più infinito il limite che ho appena calcolato quello sviluppo che ho appena calcolato cosa mi dice? chi è questo rispetto a questa funzione qua? chi ha fatto lo scientifico lo sa dovrebbe saperlo è la cosa ha calcolato? la sintoma se f di x è mx più n più qualcosa che tende a 0 mx più n sarà la sintoma cioè significa che il grafico di f quando x tende a più infinito come si comporterà il grafico di f? o così o così cioè si avvicina a questo valore qui per quale motivo? la differenza tende a 0 cioè tende ad adagiarsi su questa sintoma potrebbe anche oscillare attorno a questo valore però è più raro in genere ci si avvicina o da sopra o da sotto questo si chiama asintoto da a su di le mi c'è che non si trova in genere quando si affoggia da sopra o da sotto si avvicina a quella in grafico si avvicina a quella venta ma non lo tocca mai ok? ora lasciamo stare gli asintoti ne calcoleremo tanti quindi ma non è che però cosa mi dà fastidio? io vorrei sapere per disegnare il grafico meglio di questa funzione cosa vorrei sapere? se l'asintoto ci va da sotto o ci va da sopra come faccio a sapere se ci va da sotto o ci va da sopra? se questo termine che avanza è positivo ci si appoggerà da sopra perché la differenza sarà così se invece il termine che avanza sarà negativo il termine sarà da sopra allora qual è il termine che avanza? il limite già l'avevamo impostato sta scritto qua io cosa devo fare? l'ultimo limite cioè questo limite qua il limite per x che tende a più infinito di 1 di 1 su x fra radical 3 più radical 3 più 1 su x più 1 su x quadro meno 1 su 2 radical 3 questo fa 0 lo so perché questo limite faceva 1 su 2 radical 3 quindi la differenza tende a 0 voi la vorrei sapere se è 0 questo qua è 0 più o è 0 meno allora come faccio? allora come faccio? ricomincio e faccio una cosa fatta meglio cioè invece di dire subito che fa 0 faccio un colore denominatore che è 2 radical 3 che moltiplica un mezzo più più radical 3 2 radical 3 sarebbe radical 12 qua mi viene radice di un quarto più 1 su 12 x più 1 su 12 x quadro meno scusate basta poi sopra devo fare 2 ok 2 radical 3 ok mi ci schiede così facciamo per radical 3 più 4 più radical 3 più 1 su x più 1 su x quadro è inutile cercare di mettere ho fatto semplicemente andiamo a per b adesso quando devo fare la somma devo fare questo diviso questo e mi rimane 2 radical 3 che moltiplica 1 più 1 su x meno questo diviso questo diviso questo che fa questo per 1 quindi meno radical 3 meno radical 3 più 1 su x più 1 su x uguale uguale limite per x che tende a più infinito sotto c'è tutto quello che c'era prima non mi interessa questo perché tanto so che questa quantità tende a radical 3 più radical 3 fa 2 radical 3 per 2 radical 3 farà 12 ma comunque è un numero positivo quello che mi interessa è la differenza al numeratore se è positivo o no allora qua cosa mi viene 2 radical 3 meno radical 3 fa radical 3 poi mi viene 2 radical 3 su x poi mi viene meno radical 3 più 1 su x più 1 su x quadro quindi mi interessa questo numeratore qua allora andiamo a svilupparci questo numeratore qua questo lo chiamo n per dire numeratore n mettiamo in evidenza radical 3 n solo il numeratore è uguale a radical 3 per 1 più 2 su x meno la radice di 1 più 3 su x più scusate più 1 su 3x più 1 su 3x qua ho messo in evidenza la radice di 3 qua mi rimane 1 qua mi rimane 2 su x qua mi rimane questa roba ora quello che mi interessa soltanto è quest'altra formula vediamo se c'è il tempo di giustificarla si abbiamo il pochino di 20 qui abbiamo qui abbiamo la radice di 1 più 1 su 3x più o piccolo di 1 su x cosa ho intendo dire qui sotto c'è 1 più una cosa che è un infinitesimo più una cosa che è più infinitesimo di questo per i conti che devo fare questa non mi interessa adesso mi interessa che questo è uguale a 1 più un sesto x più o piccolo di 1 su x allora come si fa a giustificare questa cosa provate a fare il quadrato il quadrato di questo fa 1 più 1 su 3x più o piccolo di 1 su x perché il quadrato del radicante è radicante da quest'altra parte se faccio il quadrato cioè il quadrato di questo che fa 1 il doppio prodotto che fa 1 su 3x e ci troviamo poi ci sta il quadrato di questo ma il quadrato di questo è 1 su x quadro su 36x quadro che comunque finisce qua dentro perché è di ordine superiore a 1 quando andiamo a fare il doppio prodotto di 1 con questo e gli altri termini sono comunque tutti quanti che finiscono qua dentro quindi facendo il quadrato si capisce che qua il termine infinitesimo di ordine 1 perché questo è un infinitesimo per x tende a più infinito perché è del tipo 1 su x di ordine 1 perché stavolta l'infinitesimo fondamentale è infinito è 1 su x comunque questa guaglianza è vera poi la rivedremo tante diciamo sguaglianze di questo tipo la rivedremo tante di quelle volte non vi preoccupate qui non state capendo è vera allora questo numeratore come lo posso riscrivere? lo posso riscrivere come radica al 3 per 1 più 2 su x meno 1 meno 1 su 6x più o piccolo di 1 su x adesso vedete che 1 e meno 1 se ne va qua mi rimane radica al 3 che moltiplica 2 meno 1 sesto fa 11 sesti su x più termini di ordine super qualcuno potrebbe dire no qua ci va meno 1 su x no ci va più 1 su x poi vi spiegherò bene ok adesso però quello che voglio la domanda che vi voglio fare tutto questo numeratore che segno ha? è positivo o negativo? allora guardate qui c'è una quantità sarà piccola ma questa qua è più piccola quindi il segno dipende da questo quando x è molto grande questa quantità è positiva o negativa? x è positivo 11 è positivo quindi se è positivo è positivo quindi che vuol dire che questo limite è 0 positivo o negativo? positivo perché il numeratore è positivo il denominatore è una mistopina che era positivo quindi questa quantità quando tende a 0 si mantiene positiva che vuol dire che se andiamo a rifare il mio grafico di funzione con radice di 3 insomma con quella sintodo là la mia funzione su quella sintodo dove ci si appoggia? da sopra e non lo tocca da sopra perché il grafico di quella funzione si avvicina al comportamento di quella retta ma la differenza si mantiene positiva quindi se la differenza è positiva il grafico di funzione sta di su quella della retta e questo è un tipo di informazione essenziale quando andremo a fare i grafici di funzione perché mi dice la mia funzione è là ci va su quella sintodo da sopra oltretutto vedremo poi quando impareremo ripeto a fare le forme di Menclari che questo limite lo faremo con molti meno passaggi sarà molto più facile da fare tutto lo sviluppo cioè tutta sta lavagnata si ridurrà a meno della metà tuttavia anche se qui avessi commesso degli errori probabilmente la conclusione sarà la stessa cioè gli errori se li ho commessi prima vabbè allora ho sbagliato le diciamo i coefficienti della retta o la m o la n però se non ho sbagliato la m o la n qua è difficile sbagliare il disegno sono sbagliati tanto che devo far diventare negativo qualcosa che è positivo viceversa insomma se sono 11 sesti mettiamo che non fosse 11 sesti ma fosse 7 sesti sarebbe comunque così positivo quindi qua è difficile sbagliare il disegno quindi dai conti che abbiamo fatto se non abbiamo fatto errori effettivamente abbiamo ricavato una certa informazione sul grafico di una certa questo tipo di informazione non è affatto banale e aiuta tantissimo a fare il grafico di qual è la funzione di partenza questa funzione è qua per x che tende a più v ok la funzione sia diciamo la mia f di x era radical 3 x più radical 3 sesti più o piccolo di 1 però io so che questo qua questo termine qua si mantiene così questo termine qua è positivo e quindi il conto che ho fatto mi dice che effettivamente io posso fare diciamo un abbozzo di grafico dalla funzione per x di grafico ok quindi il tutto l'abbiamo fatto mettendo assieme delle informazioni che fino a poco tempo fa sembravano quasi inutili sapevamo fare i limiti di qualche successione adesso sappiamo fare 4-5 limiti di notevole di funzione abbiamo detto che tutte le funzioni principali che conosciamo diciamo elementali sono tutte continue e mettendo insieme quelle 4 nozioni che conosciamo siamo riusciti per esempio a dire che questo asintodo quello è un asintodo che la funzione ci si appoggia da sopra e chiaro? quindi il tutto dipende non soltanto dagli strumenti elementari che tu hai a disposizione chiaro che tutti noi se andiamo in cucina abbiamo il coltello abbiamo gli utenzi abbiamo lo stampo per là diciamo per fare alcune cose in cucina abbiamo il come si chiama? quello là per farci il pane in cassetta la forma e così via solo che il recipiente di toni per farci cuocere la torta e così via solo che se lo mettete in mano a me otterrete qualche mezza schifezza se lo mettete in mano a uno chef che conosce il mestiere potete ottenere un ottimo risultato e qua è la stessa cosa questi limiti notevoli che abbiamo cominciato a scrivere alcuni di voi già li conoscono dalle superiori perché magari qualcuno ha fatto lo scientifico questi limiti notevoli che abbiamo ancora d'oggi li conosce già però il 90% per non dire di più di voi se doveva calcolare questa sintota e capire se ci andava dall'alto o dal basso qualche difficoltà l'avrebbe avuta chiaro? invece usando quasi le stesse cose in un modo un po' più sofisticato possiamo ottenere dei risultati di livello superiore prima di andarci facciamo un ultimo esercizio all'alto andiamo a fare andiamo a calcolare questa funzione qua logaritmo di 3 allora x questa volta tende a 0 un esercizio più semplice 3 più 2x fratto 5 meno x qua cambio proprio prospettiva non voglio calcolare il limite il limite per x tende a 0 è la logaritmo di 3 qui è evidente, perché la funzione è continua però io voglio sviluppare questa funzione cioè voglio scrivere quello che viene dopo logaritmo di 3 allora questo lo posso scrivere come logaritmo di 3 per 1 più 2 terzi x fratto 5 per 1 meno x ok? questo lo posso scrivere come logaritmo di 3 quindi cioè logaritmo 3 meno logaritmo 5 più logaritmo di 1 più 2 terzi x fratto 1 meno x adesso mi sapete scrivere il termine successivo che viene dopo logaritmo 3 meno logaritmo 5 io dico che questo va logaritmo 3 meno logaritmo 5 più 2 terzi x più x quinti più o piccolo di x adesso se volete raccogliere 2 terzi x più 2 terzi x più 2 terzi x più o piccolo di x perché? allora allora logaritmo di 1 più 2 terzi x fratto fratto 1 meno x quinti questo non è altro che logaritmo di 1 più 2 terzi x meno logaritmo di 1 meno x meno logaritmo di 1 meno x logaritmo della poca adesso se vi ricordate logaritmo di 1 più x su x tende a 1 logaritmo di 1 più 2 terzi x su x tende a 2 terzi quindi questo qua è 2 terzi x meno x quinti il termine di ordine ok e quindi questo è 2 terzi x più x quinti che è poco facile faccio la 3 di 15 queste cose le ripeteremo molte volte sicuramente ok un'ultima cosa prima di andarcene anche questo la ripeteremo ma cominciamo a prendere familiarità vediamo un po' qua siamo a 0 x fa 0 allora se io faccio o piccolo di x per o piccolo di x quanto fa? o piccolo? x al quadrato o piccolo di x quadro questo è giusto perché se io questo lo divido per x tende a 0 questo lo divido per x tende a 0 diviso per x quadro uno lo mangio di qua uno lo mangio di qua uno lo mangio di qua quindi effettivamente è se adesso faccio 3 gol per o piccolo di x quanto fa? sempre o piccolo di x cioè o piccolo di x quando io faccio un passaggio non lo dovete intendere come un'uguaglianza perché sennò semplificando questo significa che 3 è uguale a 1 non è così o piccolo di x ai due lati di un'equazione può indicare degli infinitesimi di ordine superiore a 1 ma diversi quindi questo qua è lo stesso infinitesimo di prima moltiplicato per 3 ma prima era di ordine superiore a 1 rimane di ordine superiore a 1 per capirci o piccolo di x più o piccolo di x quanto fa? sempre o piccolo di x perché la somma di due infinitesimi di ordine superiore a 1 sappiamo solo che qua è un'infinitesimi di ordine superiore a 1 o piccolo di x meno o piccolo di x quanto fa? attenzione questo è quello che per voi è più difficile da capire non fa 0 fa un piccolo x per quale motivo? mettiamo che questa è la x quadro è di ordine superiore a 2 a 1 è di ordine 2 mettiamo che questa è la x cubo è di ordine superiore a 1 si x quadro meno il cubo mi fa 0 è un termine x quadro meno il cubo per l'unica cosa che sappiamo è che è di ordine superiore a 2 quindi attenzione che quando andiamo a fare le operazioni conio piccoli queste operazioni hanno le loro particolarità e si possono fare senza grossi problemi però bisogna capire che stiamo facendo perché se non capisci che cosa stiamo facendo ti sembra tutto affutto quindi per esempio queste vanno attentamente così però ci basta però ci basta però ci basta